Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera diciamo una parolaccia comunissima che avete sicuramente sentito. Parliamo infatti di Facebook. Non è banale parlare di Facebook in tre minuti, però ci ho provato. Allora, Facebook è il social network più diffuso al mondo che consente a tutti gli iscritti di mettersi in contatto tra loro e scambiarsi informazioni. Allora, Facebook è nato nel 2004 quando uno studente dell'università di Harvard che si chiamava Mark Zuckerberg, un ragazzino, pensò di mettere sul computer quello che fino allora era il libro delle facce cartaceo che le università pubblicavano per fare in modo che gli studenti che arrivavano da tutte le parti d'America si conoscessero più facilmente tra di loro. Quindi faccina, profilo, incontravo qualcuno per la strada, sapevo chi era. Allora l'idea è stata di automatizzare questo. Naturalmente di lì poi il mondo non è più stato come prima perché Facebook ha fatto leva sulla naturale propensione degli esseri umani a parlare di sé, a mettersi in contatto, a dire qualcosa. C'è chi dice buongiorno mondo, c'è chi dice cosa ha mangiato, è fotografo al piatto, chi dice che è appena andato a fare la pipì. Però è una tendenza che è molto diffusa tra tutte le età. Infatti gli utenti di Facebook sono equamente distribuiti tra maschi e femmine e tra appena tredicenni o sessantenni. Quindi non è più un posto da ragazzini. E tanto per darvi un numero siamo quasi a un miliardo e 800 milioni di utenti. Quindi una grossa fetta dell'umanità che utilizza Facebook anche con lo smartphone, col telefonino, per tenersi informato, in contatti, eccetera. Quindi è per antonomasia il luogo dell'amicizia virtuale. Su Facebook si è tutti amici, cioè tutti quelli che conosciamo si chiamano amici. È un'accezione di amico diversa da quella a cui siamo abituati, non è necessariamente l'amico del cuore, vuol dire persona che conosco. E Facebook, che al di là dello snobismo di qualcuno è in realtà una macchina estremamente sofisticata ed estremamente potente, Facebook permette a tutti di classificare gli amici. Cioè gli amici possono essere amici più stretti che hanno la stellina, conoscenti, familiari e quindi di dare una visibilità diversa a diverse fasce di persone. Allora, per essere amici su Facebook bisogna essere d'accordo in due. L'amicizia è simmetrica. Io ti chiedo l'amicizia e tu mi dici sì, l'accetto. Non è diverso. Se uno sconosciuto vi chiede l'amicizia, che cosa fate? Dipende. Io normalmente non accetto amicizia da sconosciuti. Se qualcuno mi chiede l'amicizia e non lo conosco, gli scrivo un messaggio in privato e dico scusa, quando ci siamo conosciuti, come mai? Cosa sai di me? Normalmente se un impostore si scioglie come neve al sole. Voi vedete voi secondo coscienza. Un'ultima cosa che voglio dirvi è che bisogna distinguere bene, è obbligatorio perché un cusi Facebook, distinguere tre cose. Il profilo che è quello della persona, associato a una singola persona. Il gruppo, quindi quello che siete voi quando vi scrivete a Facebook. Il gruppo che è un insieme di persone unite da qualche interesse, qualunque. Allora può essere la quintà degli elementari, può essere gli amanti della birra fatta in casa, può essere sì qualcosa e no qualcosa, i vegani uniti nella lotta. La fantasia spopola. A che cosa servono i gruppi? Servono a condividere una serie di informazioni del quale magari il resto dell'umanità può fare a meno. Quindi non è una cattiva idea appartenere a certi gruppi. La terza cosa che c'è su Facebook è invece la pagina, che è una cosa diversa. La pagina è per sua natura pubblica e è associata a un ente, a un'organizzazione, a un personaggio pubblico, a qualcosa di pubblico che usa la pagina come marketing. Quindi sono degli aspetti leggermente diversi anche se tutti pubblicano contenuti più o meno lo stesso modo. Con le pagine non si fanno amicizie ma si diventa fan, cioè si mette mi piace. Ci sarebbe molto da dire, una macchina complessa, comunque spero di avervi dato almeno qualche idea sulle cose fondamentali. Se volete saperne di più potete scrivermi, possiamo sentirci, vederci su YouTube o perché non andate a cercare la pagina di Maledetta Informatica su Facebook. Cioè se siete iscritti a Facebook potete leggere lì e potete scrivermi anche lì. Arrivederci alla prossima parolaccia.